Questo è il corso principale di Filocrano, dove io venivo a fare le passeggiate con la mia fidanzata. In queste scalette venivamo qui e c'era il cinema, facevano dei filmini passionali, d'amore, di western, insomma, era un bel cinema, l'unico svago che c'era a Filocrano era il cinema. Ecco qui c'è Filocrano e i suoi prodi figli caduti per la patria, 1921. Questa è la panchina dove ci mettevamo seduti, io e Marinella. Quando si poteva si veniva da soli perché anche con la scusa magari di scendere di casa, dove andate, dove andate, sai, i vecchi erano un po' restrittivi. Questa pista è una pista di patinaggio a Rutelle, ai miei tempi era molto frequentata, adesso è un po' declassata perché non c'è più come una volta. A miei tempi, a quest'ora qui, c'era tante di quelle coppie, ragazzi che giocavano all'altalena, bambini, eccetera. Bene, questi sono i murali, se i giorni di oggi gli piace fare questo lavoro, però è sempre arte, intendiamoci. Sono degli artisti, guardate bene, a me piace, anche se sono murali, se che sporco di muri. Io penso che la gioventù di oggi non ha tanta pazienza di sopportarsi tra i coniugi, perché i ragazzi di oggi sono bravi, attendiamoci, però non hanno quel contesto sacro della famiglia. Grazie. 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 Grazie.